Eccoci, buonasera. Non c'è stato quel rallentamento che era stato chiamato, auspicato da tutti gli esperti. C'è stato solo in parte e in realtà i numeri nazionali con 712 nuovi decessi e con il numero che vedremo di oltre 2000 nuovi casi è condizionato molto dall'aumento superiore alle attese dei dati relativi alla sola Lombardia, che ancora una volta è la regione più colpita. I morti sono stati praticamente 90 più di ieri e soprattutto dalla Lombardia si avanzano gravi ombre sul reale numero dei decessi nella Bergamasca, nella zona di Bergamo e nella stessa città, dove i numeri non quadrano nel raffronto con le morti dell'anno scorso. Potrebbero essere centinaia di più le vittime, quelle che non sono state censite come uccise dal Covid. Ma c'è anche apprezzione perché sono molto aumentati i numeri di Milano. Anche qui il discorso va visto evidentemente con la freddezza dello studioso. Se sono aumentati i tamponi e quindi i casi positivi o se c'è un aumento del contagio. Ma vedremo anche altre situazioni del nord Italia. E poi c'è la battaglia per il dopo. C'è stato un vertice europeo in teleconferenza. Ebbene i paesi del sud Europa, che sono anche quelli che sono stati più duramente toccati finora in Spagna, la situazione è in linea di tendenza peggiore di quella italiana. E anche in Francia, i numeri sono di pochi secondi fa, ci sono stati 365 nuovi morti. Si è presente la portata della sciagura anche dal punto di vista dei contraccolpi economici e produttivi. E si chiede un intervento dell'Unione Europea che sia pari alle aspettative. Ma ci sono altri paesi che fanno dal nord Europa orecchie da mercanti. Per questo praticamente ci si è rinviati di dieci giorni. Sapendo però che ci sono divisioni forti. L'Italia ma anche la Spagna hanno detto allora facciamo da soli. Non bisogna incorrere in quelle che sono le tagliole che hanno già provocato guai ad altri paesi. Qui è una questione che riguarda tutti gli stati e non un singolo paese alle prese con condizioni eccezionali che fanno sforare i parametri. Ma come si sa da ieri sera, da questa notte, c'è un altro personaggio che torna in campo. Perché con un articolo per il Financial Times, l'ex presidente italiano della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha impostato quella che deve essere a suo avviso la linea per la rinascita, la ricostruzione del dopo pandemia. E ha parlato della ricetta cardine che è quella di agire sui debiti pubblici, di alzare, di aumentare i debiti pubblici. Non possono essere i cittadini o le imprese a pagare il prezzo di quello che è accaduto. E questo obiettivamente, nella politica non si parla d'altro, mette Draghi in campo come la figura che Dorà potrebbe guidare la ricostruzione italiana, chiamiamola così. Ma vedremo anche novità importanti per la scuola, perché la ministra Azzolina dice non sappiamo ancora quando e se riprenderà l'anno scolastico. Potete immaginare cosa vuol dire questo, si stanno approntando nel Ministero dell'Istruzione tutti i piani per portare comunque a termine gli anni scolastici e approntare nel modo che sarà possibile gli esami. E poi vedremo la situazione appunto a livello internazionale. Questo è altro, 30 secondi i titoli. Superai 80.000 casi totali l'epidemia in Italia. Nelle ultime 24 ore 4.492 positivi in più, 1.000 guariti, 712 morti. Un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi giorni quando la diffusione del contagio aveva iniziato a rallentare. E nella Bergamasca si teme che siano molte più persone aver perso la vita. C'è un'impennata rispetto agli anni precedenti che va ben oltre le cifre ufficiali dei decessi per Covid-19. 2.500 contagi nelle ultime 24 ore in Lombardia. Il governatore Fontana preoccupato dal raddoppio dei nuovi casi in provincia di Milano, oltre 800 per un totale che supera i 7.000. Ma la notizia più confortante è che non aumentano ricoveri né accessi al pronto soccorso. In Liguria sono in sofferenza i reparti di terapia intensiva, soprattutto quelli genovesi. L'età media della popolazione è tra le più alte d'Italia. L'appello dei medici, siamo in affanno positivo, un operaio del cantiere del ponte di Genova. L'Europa è spaccata sulle soluzioni per affrontare la crisi economica innescata dal coronavirus. Nulla di fatto nella teleconferenza tra i leader dei 27 paesi che hanno rinviato ogni decisione a tra dieci giorni. Un gruppo di stati, tra cui Italia, Francia, Spagna, chiedono la condivisione dei titoli di debito pubblico, i cosiddetti Corona Bond, dura opposizione di altri paesi guidati da Germania. Se non c'è accordo, ognuno andrà per conto proprio, hanno detto Conte, il premier spagnolo Sanchez e anche Macron. Nel giorno in cui il premier apre l'opposizione per gestire l'emergenza, irrompe obiettivamente sulla scena Mario Draghi. L'ex presidente della Banca Centrale Europea chiede con un articolo sul Financial Times di non avere alcuna esitazione a intervenire aumentando la liquidità a costo di alzare i debiti pubblici nei vari paesi. Trova un apprezzamento bipartisan e chissà che non sia lui, come molti indicano sottovoce, a guidare il dopo coronavirus. Si allungano i tempi per la riapertura di scuola-università. Si tornerà se e quando le condizioni lo consentiranno, ha detto la ministra di istituzione Azzolina, intervenendo al Senato. Gli esami di maturità saranno seri ma senza rigidità, ha detto la ministra, ipotizzando che la commissione esaminatrice possa essere formata da membri interni e presidente esterno. In tutta Europa sale giorno dopo giorno drammaticamente il numero delle vittime, oltre 15.000 emergenza sanitaria in Spagna, in particolare a Madrid, ospedale al collasso, requisiti gli alberghi per ospitare i malati. In Russia ci sarebbero 800 contagi, ma nel timore di un'epidemia su larga scala è stato deciso anche il blocco di tutti i voli con l'estero. Negozi chiusi, l'ordine è restare a casa negli Stati Uniti e New York, la città più colpita dall'emergenza. Esauriti i posti di terapia intensiva, la Guardia Nazionale sta prontando ospedale da campo. Buonasera, non è stata la giornata che si sperava sul fronte del bilancio del contagio da coronavirus. Come stiamo per vedere insieme, il totale dei casi nazionali ha superato 80.000, 80.539. Attualmente positivi più 4.492. Totale dei guariti più 999. Totale dei deceduti più 712, a quota 8.215. Più della metà delle vittime in Europa per il contagio del coronavirus si sono registrate in Italia. Ma partiamo questa sera da un dramma nel dramma perché nella Lombardia, che è la regione più colpita, c'è una zona, quella della provincia di Bergamo, in cui a cominciare dal capoluogo ora si comincia a dubitare sul reale numero dei morti, che potrebbe essere molto più alto. Fare i conti con i numeri dei morti per covid ufficiali o sommersi, raffrontandoli con quelli degli anni passati nello stesso periodo. Basta guardare i dati di Nembro. 11.000 abitanti in provincia di Bergamo, Valseriana, il paese che doveva diventare zona rossa, per vedere la sproporzione. Gli anni scorsi, da gennaio a marzo, 35 decessi in media. Oggi 158, 31 ufficialmente morti per covid. Del tutto evidente che la realtà è in perfetta coincidenza con i casi covid, ma quattro volte tanto. E questo stesso grafico lo si vede in tutte le città. Il rapporto tra questi due numeri è enorme. Nel caso di Nembro è 4, nel caso di Bergamo è 10. Cioè vuole dire che tantissima gente in questo momento sta morendo vivendo nelle proprie case senza essere riconosciuti covid. Luca Foresti, addi del centro, medico Sant'Agostino e Claudio Cancelli, sindaco di Nembro, positivo al coronavirus che oggi sta bene, sono entrambi fisici. Hanno cercato di dare un senso a questi numeri. Morti covid a casa, quindi non tamponati, non riconosciuti come tali, però con delle polmoniti molto forti, rapidamente muoiono. La seconda ipotesi è persone che muoiono perché in questo momento il sistema sanitario non è in grado di accoglierle come avrebbe fatto in altri momenti. Noi stiamo cercando di fare, proprio nella città di Nembro, un'indagine epidemiologica sulla popolazione, cercando di capire quanti sono effettivamente le persone a Nembro che hanno preso il covid. Succede poi anche che magari una persona muoia, quindi ci sia un decesso e sarebbe ad esempio importantissimo capire nei familiari che presentano delle febbre, eccetera, eccetera, cosa sta succedendo. Alzano Lombardo nella Bergamasca, il comune focolaio del virus accanto a Nembro, dieci morti nel 2019, 97 nello stesso periodo quest'anno, solo 24 ufficiali covid. A Bergamo, nei primi 24 giorni di marzo, 446 decessi, 136 quelli ufficiali, 98 la media degli ultimi anni, scrive oggi il sindaco Gorri su Twitter. Prendere i dati dei singoli comuni in cui ci siano almeno 10 morti per covid e vedere se corrisponde alle morti reali, i numeri diffusi oggi sarebbero sottostimati. Ci dice chi ha realizzato questo studio che ora cerca di estendere altri 8 mila comuni della Bergamasca. Bisogna avere dati credibili su quello che accade per capire cosa sia giusto fare. Ci sono stati altri quasi 100 morti in Emilia, ci sono vittime e nuovi casi in tutto il nord. In questi giorni ci siamo occupati poco del nord-ovest perché dalle altre regioni arrivavano i dati più sconfortanti, ma vediamo in Piemonte e in Liguria oggi perché ci sono notizie diverse da dare. E poi sarà la volta di Milano. La battaglia di Milano è stata definita da molti giorni. Sono cresciuti i casi. Vedremo che cosa succede. Mancavano nella prima comunicazione ufficiale inviata dalla Regione alla Protezione Civile. Verranno inseriti domani, ma dal Piemonte arrivano altri 50 decessi nella giornata di oggi, in un quadro in cui comunque complessivamente la curva dei contagi in Regione tende a scendere per il secondo giorno consecutivo. Il totale ora è di 499 deceduti. Quasi 300 arrivano dalle sole province di Torino e d'Alessandria. Il sistema sanitario resta ancora sotto pressione con oltre 400 ricoveri in terapia intensiva e grande lavoro per gli operatori sanitari esposti in corsia. Oggi è deceduto un medico di famiglia di Torino. Era in pensione, ma prestava servizio in una casa di riposo. Sono 2262 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 236 in più rispetto a ieri. Le persone decedute dall'inizio dell'emergenza sono 280, 26 in più di ieri. Ma sono i pronto soccorso e i reparti di rianimazione ad essere in affanno, soprattutto quelli genovesi, considerando anche che l'età media della popolazione in Liguria è una delle più alte in Italia. Abbiamo sentito la testimonianza del primario del pronto soccorso dell'ospedale Villascassi di Genova, lo stesso triage che il 14 agosto 2018 aveva accolto i feriti del crollo del Ponte Morandi. Il nostro ospedale, come tutti gli altri ospedali del Nord Italia, si è dovuto attrezzare velocemente per far fronte a questa pandemia che nessuno avrebbe mai immaginato in termini così elevati di morbidità. Il pronto soccorso resta in uno stato di grave emergenza e qui, come negli altri reparti di rianimazione del Nord Italia, spesso si devono fare scelte drastiche su chi fa rimanere in vita. Va da sé che i pazienti che già in tempo di pace, lasciatemi dire, prima di questa pandemia non potevano essere intubati perché i pazienti molti anziani non sarebbero riusciti a sopravvivere a un'intubazione, gioco forza, non lo saranno nemmeno adesso. Ma questo non tanto perché ci sia una demarcazione in base all'età del paziente. Lo facciamo per motivi sanitari, perché si fa così. Come in altri ospedali, anche a Genova si devono fare i conti con medici ed infermieri in numero ridotto perché molti di loro sono positivi al Covid-19. Qui vengono fermati anche quelli asintomatici per non aumentare il focolaio all'interno delle terapie intensive. Io sono un esempio principale perché, come vedete, sono nella mia camera in quanto sono positivo al tampone del coronavirus e quindi, seppur io stia bene, io sono a casa. E visto il numero in costante aumento di positivi anche in Liguria, la regione ha deciso di trasformare tutti i 320 posti letto dell'ospedale Villascassi interamente dedicati ai pazienti Covid. E proprio da Genova è arrivata anche la notizia che un operaio del cantiere del nuovo viadotto di Genova è risultato positivo al Covid-19. L'uomo è in buone condizioni, dice la struttura commissariale. Si trova in quarantena e si sta lavorando da subito, dice la struttura, appena ha presa la notizia per ricostruire i contatti che l'operaio ha avuto sul luogo di lavoro prima di avere la febbre. È chiaro cosa può voler dire. Abbiamo la prima persona positiva del coronavirus nel cantiere, è in albergo e sta bene. Seguiamo tutti i protocolli della ASL per rintracciare le persone che gli sono state vicine nelle ultime e negli ultimi tre giorni, ha detto il sindaco di Genova che è commissario per la ricostruzione. Anche dal punto di vista statistico poteva succedere, il cantiere del ponte continua seguendo tutte le disposizioni perché è un messaggio per tutti e una priorità per Genova. Ma vi dicevo di Milano, cosa succede? Che il numero dei casi è stato superiore alle aspettative e alle attese? Molto superiore. Oggi a preoccupare è il raddoppio dei nuovi casi di positivi nella provincia di Milano, 848 in più, che portano il totale a quasi 7.000 contagiati. Ieri erano 373, l'altro ieri 375. È un dato molto forte, ammette l'assessore Gallera nel quotidiano bollettino della regione, dove però, affiancato dagli specialisti dei laboratori dell'ospedale Niguarda e del San Matteo di Pavia, spiega così il forte incremento anche di altri numeri importanti. Devo dirvi che quando io ho visto questo dato così grosso sulla città di Milano, ho chiamato subito i direttori degli ospedali di Milano, i quali non hanno però evidenziato una crescita così importante di accessi ai pronto soccorso, una pressione così, addirittura più del doppio nel pronto soccorso, ma è addirittura stabile rispetto ai giorni precedenti. Quindi qui potrebbero essere molti più tamponi che sono stati fatti, ma non ricoveri aumentati. I decessi sono di nuovo un numero significativo, dice 387, 118 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 10.681, 655 nuovi pazienti, ieri erano solo 315 in più. E poi c'è il dato complessivo della Lombardia, che fa preoccupare il governatore Fontana, 2.543 nuovi positivi rispetto a ieri. È il secondo significativo picco dopo i 3.251 nuovi casi del 21 marzo. La spiegazione anche in questo è nell'aumento del numero di tamponi eseguiti sui soggetti con sintomi conclamati. I numeri di oggi non rappresentano nuove infezioni, ma nuove diagnosi di chi si è infettato 10 o 14 giorni fa. Fa male il superamento della soglia dei 1.000 decessi in tutta la provincia bresciana, con 166 morti e 1.072 positivi. La città di Brescia è il primo comune con più contagi. Ancora critica la situazione negli ospedali dove continuano ad essere creati nuovi posti in terapia intensiva. Con solo almeno il dato sugli spostamenti dei Lombardi, secondo gli ultimi rilevamenti delle celle telefoniche, i movimenti sono scesi al 36%, una settimana fa eravamo al 42%. Ma c'è un'altra partita che si gioca, non quella per la vita e per la salute, quella per ottenere in Europa che ci siano condizioni per non strozzare anche la nostra economia. E non è andato bene, ve lo dico subito, il vertice oggi in teleconferenza dei capi di Stato e di Governo dei 27, anzi. Dieci giorni per una proposta accettabile su come affrontare con strumenti straordinari una crisi epocale. L'odierno vertice europeo in teleconferenza ha visto il Premier Conte d'accordo con il primo ministro spagnolo Sanchez e con l'apertura tra gli altri del presidente francese Macron respingere la bozza di intesa e chiedere altro tempo. La spaccatura, non certo inedita, purtroppo tra i membri dell'Unione insomma non è stata superata. Spaccatura tra chi come i paesi del sud Italia in testa vuole rispondere alla crisi attraverso l'emissione una tantum di titoli comuni del debito la cui necessità è stata sottolineata anche oggi dal ministro Gualtieri e chi, come gli stati del nord guidati dalla Germania di quegli strumenti non vuole sentir parlare. Inaccettabile una mutualizzazione dei debiti secondo il premier austriaco Kurz e il ministro delle finanze tedesco Scholz. Ciascun paese continuerà a rispondere del proprio debito ha detto Conte in teleconferenza sottolineando la sostenibilità delle finanze pubbliche italiane. Tuttavia ha affermato bisogna mettere in campo strumenti finanziari innovativi e l'Europa in questo senso deve battere un colpo. Staremo a vedere se questi dieci giorni porteranno a qualche risultato tangibile. Un assist in questo senso oggi è arrivato dalla Banca Centrale Europea che ha avviato le sue iniezioni di liquidità per l'emergenza pandemia il famoso PIPP da 750 miliardi di euro complessivi. Dettaglio non di poco conto la BCE con una mossa senza precedenti non dovrà rispettare il limite del 33% per l'acquisto di titoli nazionali e del 50% per quello di titoli sovranazionali. Tradotto in linea di principio potrebbe acquistare gli eventuali euro bond emessi anche per il 100% del loro importo. Per il momento ha ringraziato il nostro spread che ha chiuso in forte calo a 158. punti base. Ma sulla scena europea e sulla scena del dopo contagio del dopo pandemia si staglia una figura che conosciamo quella di Mario Draghi cosa è successo? Che questa mattina il Financial Times quello che è il giornale economico più letto dalla comunità internazionale pubblicava proprio un articolo di Draghi su quel che bisognerebbe fare è parsa una ricetta da guida futura a livello nazionale o sovranazionale nell'opera che sarà faticosa difficile ma importantissima di ricostruzione. Dentro e fuori i palazzi romani desertificati dal virus si almanacca in queste ore su possibili scenari e sbocchi della crisi sanitaria e della crisi economica e allora ritorna come nei mesi scorsi un nome su tutti come possibile salvatore della presa patria quello di Mario Draghi l'ex governatore della BCE riprende la parola in un lungo intervento sul Financial Times dice che stiamo combattendo una guerra contro il coronavirus e in futuro un debito pubblico più alto sarà necessario insieme alla cancellazione dei debiti privati come fu nelle guerre mondiali solo i debiti degli stati possono fronteggiare le conseguenze umane ed economiche di quella che si prospetta come una tragedia biblica bisogna sostenere il reddito delle persone e delle imprese che hanno bisogno di un'immediata iniezione di liquidità messaggio alle elite europee e la lettura dei più un pungolo a superare le resistenze nordiche e varare subito gli euro bonds un messaggio che fa bene ai mercati e che in Italia rimbalza quasi come un segnale per il futuro non oggi la priorità è uscire dall'emergenza ma domani di fronte all'economia devastata dal virus non sarebbe Mario Draghi il novello Mario Monti la personalità che può dare fiducia ai mercati garantire prestiti sostenibili usare la sua rete di rapporti internazionali per ricostruire l'Italia come in un tragico dopoguerra ipotesi fuori dal mondo tuona dalla mattina Luigi Di Maio mentre Matteo Renzi dice che l'intervento di Draghi andrebbe letto imparato a memoria lei ha indicato la strada si rivolge a Giuseppe Conte intervenendo al Senato e poi c'è Salvini che ringrazia l'ex governatore della BCE è caduto al mito del non si può fare debito benvenuto ci serve l'aiuto di tutti anche il suo da Forza Italia si plaude a Draghi e si vagheggia un governo di unità nazionale da lui presieduto resta scettica Giorgio Melone lasciamo stare Draghi e guardingo il PD l'orizzonte è il governo Conte non è il momento non è l'ordine del giorno è anche la linea netta del Quirinale nessun lavorio nessuna operazione napolitano Monti sono solo chiacchiere buone per i retroscenisti e l'intervento di Draghi viene letto come un atto di civismo per dare una mano all'Italia e all'Europa tutta lo stesso Conte lasciando Palazzo Madama si associa alla richiesta di Draghi siamo in sintonia serve uno shock un'azione straordinaria già Palazzo Madama perché al Senato oggi c'è stato quello che c'è stato ieri alla Camera tra l'intervento del Presidente del Consiglio e gli interventi anche dei rappresentanti dei gruppi e c'è stata Maretta saremo andato anche al Ministro di Incade i rapporti col Parlamento di elaborare anche un percorso di più intenso confronto e di condividere con voi un percorso per consentire di acquisire le vostre più puntuali valutazioni mi riferisco alle forze d'opposizione arriva stamattina in Senato la svolta attesa dall'opposizione l'annuncio del Presidente del Consiglio Conte trova conferma nel pomeriggio con la convocazione per domani da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento d'Incade i capi gruppo d'opposizione di Camera e Senato primo appuntamento della cabina di regia organismo trasversale che dovrà provare a condividere le iniziative per fronteggiare l'emergenza e non solo l'appello di Conte vale anche per il dopo il rilancio del Paese da fare insieme dice Conte al Senato conferma anche l'anticipazione ieri alla Camera sui fondi a disposizione oltre ai 25 miliardi già stanziati altri 25 sono pronti l'aula come da prescrizione di sicurezza è mezza vuota la presenza come ieri a Montecitorio è contingentata in proporzione ai gruppi le postazioni vengono sterilizzate subito dopo ogni intervento stiamo combattendo una sfida inimmaginabile serve coraggio l'appello di Conte a non dividersi che in aula l'opposizione accoglie solo in parte mancano mascherine nelle case di riposo nelle corsie di ospedali nelle case mancano le bombole di ossigeno i saturimetri attacca il segretario della Lega durissimo con Conte che sostiene ha commesso errori molto gravi ammettere qualche errore fatto non sarebbe segno di debolezza ma sarebbe segno di forza altrimenti non staremmo commentando 7.503 italiani morti a cui va il nostro pensiero appunti analoghi arrivano al presidente del consiglio anche da Isabella Rauti di Fratelli d'Italia e Anna Maria Bernim di Forza Italia ma a rompere il clima di precaria unità ci pensa il capogruppo 5 Stelle Gianluca Perilli non voglio fare polemiche ma bisogna essere onesti premette e poi attacca lei è un monumento all'incoerenza è un monumento all'incoerenza chi adesso dice che bisognava che bisognava chiudere che bisogna chiudere tutto che prima diceva che bisognava aprire tutto senatore Salvini non se lo ricorda dopo Codogno l'aula si scalda Salvini per rispondere si toglie la mascherina al suo fianco l'ex ministro Centinaio manda platealmente a quel paese il capogruppo 5 Stelle a calmare gli animi ci prova la presidente Casellati ma la calma torna veramente solo in chiusura di seduta quando la Casellati chiede un minuto di silenzio per chi non c'è più invito l'aula ad osservare un minuto di silenzio e poi c'è la scuola che succede che cosa succederà ne ha parlato la ministra la risposta ufficiale ancora non c'è ma nelle parole del ministro dell'istruzione nell'aula del senato si capisce che la riapertura delle scuole potrebbe slittare ancora di molto semmai quest'anno i cancelli riapriranno vi daremo indicazioni nelle prossime settimane dice questo già basta intuire che la data del 3 aprile ormai sembra solo un miraggio si tornerà a scuola se e quando sulla base di quanto stabilito dalle autorità sanitarie le condizioni lo consentiranno il ministro ricorda le zone più colpite dal covid-19 lì non abbiamo mai lasciato soli gli studenti afferma e lo ripete tante volte la scuola e l'avamposto dello Stato e proprio con la didattica a distanza rimarrà sempre accanto a tutti i ragazzi e alle loro famiglie nel mondo sono 1,5 miliardi gli studenti che sono forzatamente a casa 8 milioni e 300 mila solo in Italia cita Boccaccio con la storia di un cittadino che schifava l'altro durante la peste a noi non accadrà mai dice poi tocca un altro argomento delicato gli esami di maturità saranno seri ma senza rigidità il mio orientamento è di proporre una commissione formata da soli membri interni con presidenti esterni membri interni che conoscono bene i ragazzi presidente esterno come garante della regolarità degli esami una sfida per la scuola che richiede nuovi fondi 85 milioni quelli sbloccati con un decreto firmato stamattina 10 per potenziare gli strumenti digitali 70 per dotare gli studenti più in difficoltà dei necessari mezzi per la didattica a distanza a solina ribadisce anche quello che già si sapeva e cioè che l'anno scolastico in corso sarà valido in ogni caso anche se gli studenti non raggiungeranno i 200 giorni di frequenza previsti per legge e spiega che sulle valutazioni a distanza da parte dei docenti ci si attiene ad un criterio di libertà si rivolge anche agli stessi docenti i contratti a termine saranno prorogati nessuno perderà il lavoro sostiene un solo applauso interrompe il suo discorso quando cita chi mette in rete notizie false gli definisce irresponsabili perché in questo momento così difficile servono solo informazioni esatte e puntuali sta succedendo anche nel resto d'Europa quello che è accaduto innanzitutto nel nostro paese e se c'è un paese un altro stato un'altra nazione che si avvicina è molto ai numeri e anche alla gravità della situazione italiana e la Spagna in Europa il numero delle vittime per il covid-19 ha superato quota 15.000 al momento due terzi del totale globale dopo l'Italia il paese che sta soffrendo di più resta la Spagna dove il virus ha infettato finora oltre 56.000 persone ne ha uccise più di 4.100 nell'obitorio allestito al palaghiaccio di Madrid continuano ad arrivare le bare per supplire alle carenze degli ospedali si stanno allestendo posti letto anche negli alberghi in Francia sono più di 29.000 i contagiati e quasi 1.700 i morti sono tornati i treni ospedale portano via i pazienti dal fronte alsaziano e detta così sembra una storia di oltre 100 anni fa ma il TGV l'alta velocità sta evacuando i malati da Strasburgo una delle zone più colpite sale vertiginosamente il numero dei contagiati anche in Germania dove sono arrivati ad oltre 3.650 ma dove la conta delle vittime resta incredibilmente bassa chi arranca è il Regno Unito dove oggi ci sono stati più di 100 morti e i manager sanitari hanno lanciato l'allarme uno tsunami di recovery sta per abbattersi sugli ospedali neanche la trasformazione di una fiera londinese in un nosocomio per 4.000 persone potrà bastare chi si sta portando avanti è la Russia dove da due settimane sono in costruzione i nuovi ospedali cui i cantieri sono stati regolarmente visitati da Putin i contagi sono oltre 800 ma a Mosca si continua a ripetere che non c'è un'epidemia però da oggi i negozi parchi e locali sono stati chiusi per una settimana tutti i voli provenienti da fuori sono stati bloccati c'è l'ordine di rimanere a casa perfino il referendum costituzionale previsto per il 22 aprile e che avrebbe permesso a Putin di candidarsi per un altro mandato è stato rinviato a data da destinarsi negli Stati Uniti le vittime hanno superato quota 1.000 le positività volano a 75.000 l'area più colpita è la città di New York nella quale gli ospedali cominciano a non avere più spazio in terapia intensiva e la Guardia Nazionale ha pronta ospedali da campo sono 3 milioni e mezzo gli americani che hanno già chiesto l'indendità di disoccupazione mai un numero così alto in così poco tempo in attesa che entri in vigore lo stimolo approvato dal congresso di ben 2.000 miliardi di dollari alle famiglie andrà un assegno diretto di 1.200 dollari 367 miliardi di dollari per le piccole imprese 550 miliardi per l'industria a preoccupare l'OMS ora e anche l'India i morti sono solo si fa per dire 16 di malati poco più di 700 tuttavia il governo nel timore di non riuscire a fronteggiare il pieno impatto del virus ha messo in isolamento l'intera popolazione 1.300 milioni di persone sta costruendo ospedali da campo negli stadi in Iran l'ultimo appello degli ayatollah non è riuscito a fermare lo spostamento delle persone per festeggiare il capodanno persiano cancellato dall'autorità i morti sono 2.200 e quasi 30.000 contagiati il numero che secondo l'OMS rischia di essere largamente sottostimato balzo dei contagiati anche in Sudafrica che sfiora quota mille il governo ha deciso di implementare 21 giorni di chiusura totale mettendo nelle strade l'esercito la Cina dopo aver azzerato il virus al proprio interno ed avere ricevuto contagi di ritorno ha deciso di tagliare drasticamente visti e voli le compagnie avranno a disposizione un solo collegamento a settimana per nazione l'obiettivo è avere il pieno controllo sanitario su chi entra ci sono da Lilligruber a otto e mezzo il vescovo Francesco Beschi Massimo Cacciari Vittoria Colizza e Beppe Severnini è giovedì e a Piazza Pulita con Corrado Formigli ci sono Matteo Salvini che va a Piazza Pulita dopo tre anni Alberto Mantovani Vincenzo Boccia Carlo Calenda Francesca Redavid Beppe Fiorello e Selvaggia Lucarelli ci fermiamo Siamo infine ai mercati vediamo subito come ha chiuso Milano più 0,73% ma la notizia importante arriva dallo spread che come vedete scende a 159 punti base anche se dicono gli esperti che a questo punto non è importante guardare lo spread ma altri indicatori anche dopo la riunione europea di oggi invece a Wall Street in questo momento si viaggia a tutto vapore dopo il super stimolo promesso dal Senato americano Dow Jones più 4,74% Nasdaq più 4,40% è tutto Gruber Formigli ci vediamo domani sera buonasera grazie a tutti